KIDDY KADS Sono curioso di vedere com'è il nostro cugino Bagel! Di sicuro è gentile e ben educato! Buongiorno, cugina! Il fiocco che porti in testa è molto grazioso! Sono sicuro che gli piace leggere! E io scommetto che è bravo a giocare a calcio! Insieme a lui formeremo la squadra più forte di sempre! O magari una band strepitosa! Ciao! Sorellina, che piacere! Ciao, zia Cannella! Ciao, miei dolci nipotini! Ma guardate un po' quanto siete diventati grandi! È il portato Bagel! Vogliamo conoscerlo! Ma certo! Ecco il vostro cuginetto! È davvero lui, nostro cugino? Mi raccomando, tesoro della mamma, fai il bravo! Voi giocate con il vostro cuginetto e noi andiamo a preparare il tè! I gattini non si aspettavano che Bagel fosse così piccolo! Non sapevano che cosa fare! Non sa nemmeno camminare! Come facciamo a giocare con lui? E non sa dire nemmeno una parola! Oh no! Fai piano Bagel! Questa è la mia bambola preferita! Lo vedi? Questo è un pallone da calcio! Se vuoi ci puoi giocare! Va bene, Bagel? Oh, a palio! Mi so che sei ancora piccolino per giocarci come si deve! Guarda, Bagel! Questo è il gioco più bello che esista! Si chiama Scacchi! Oh no! Non li devi lanciare per aria! Non puoi giocare con le mie bambole! Né con le mie macchinine! Dovremmo trovare un modo per calmarlo! Non possiamo lasciarlo giocare con il mulino a vento! È adatto a gattini molto più grandi di lui! Se ci gioca lo romperà di certo! Ecco la soluzione! Mi è venuta una bellissima idea! Dobbiamo trovare dei giocattoli adatti a lui! Quando ero piccola piccola mi piaceva questo sonaglino con il topo! Guarda, Bagel, ci piace? I gattini tirarono fuori i giocattoli di quando erano piccoli come il loro cuginetto! Guarda, Guarda, Guarda... Oh, no, come! è meraviglioso, gattini avete fatto subito amicizia con il vostro cuginetto mi fa molto piacere vorrei dire che faremo in modo di venirvi a trovare più spesso fantastico! i gattini capirono che giocare con i micetti piccoli può essere divertente basta semplicemente ricordarsi come si era alla loro età giochiamo insieme con kitty cats ricevi un aggiornamento su app store e google play gattini alla deriva budino e chicca stanno aspettando cookie nella loro stanza ma dove è andato cookie? mi annoio troppo aspetta! ha detto che gli è venuta un'idea davvero divertente ecco! guardate! ora possiamo giocare con tutti i nostri giochi per l'acqua che bello! il mio sottomarino farà delle missioni sott'acqua e io giocherò con il mio delfino! fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow! ��ata mi wow mi wow mi wain he heaa i nostri giochi non riescono a nuotare qui questa piscina è troppo piccola Ma ho preso la bacinella più grande di tutta la casa! Forse potremmo giocare meglio nella vasca da bagno! Il mio delfino adora saltare nell'acqua! La mia barchetta è la più veloce di tutti! Ma il mio sottomarino è il più grande e può andare sott'acqua! L'acqua è arrivata al pavimento! Non fa niente! I muri e il pavimento sono impermeabili! Certo, ma l'acqua può passare dalla fessura sotto la porta! Allora, copriamola con un asciugamani! Adesso abbiamo più posto che mai per usare i nostri giocattoli! Il bagno è fatto per l'acqua! Teniamola aperta e giochiamo un po'! Io sto nuotendo! Io ve lo ho detto! Io ve lo ho detto! Forse c'è una perdita sul tetto! Che strano! Non sta piovendo! Cosa? C'è una perdita da qualche parte? Meglio sistemarla! Cara, ci deve essere una perdita in ufficio! Sì, anche in cucina! Potrebbe essere una tubatura rotta in bagno! Preparatevi alla sconfitta! A quanto pare ci sono i gattini! Gattini! Avete allagato tutta la casa! C'è acqua che cade dal soffitto ovunque! Ci dispiace! Non pensavamo che l'acqua sarebbe uscita dal bagno! Oh no! Abbiamo allagato tutto! Mi è venuta un'ottima idea! Non giocheremo mai più con l'acqua in questo modo! E adesso puliremo questo disastro! I gattini e i loro genitori provano ad asciugare l'acqua con degli stracci! Ma ce n'è troppa! Pulire un posto pieno d'acqua è faticoso! È più facile con la polvere perché c'è l'aspirapolvere! Oh certo! Ma dove ho la testa? Ho una pompa dell'acqua che è perfetta per asciugare tutto! Oh! La pompa dell'acqua ha aspirato l'acqua e con un tubo speciale la portate in un barile! La casa sarà presto asciutta e non cadrà più acqua dal soffitto! E cosa faremo con tutta quest'acqua? Beh, potremmo sempre costruire un piccolo stagno in giardino e usare l'acqua per riempirla! Così potrete giocare senza problemi con i vostri giochi d'acqua, gattini miei! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! D'ora in poi i gattini giocheranno con l'acqua in giardino dove c'è sempre un adulto e a volte una paperella! Giochi al buio Una sera la mamma e il papà andarono a cena fuori e lasciarono i dolci gattini a casa con la nonna Nonnina, per favore giochi un po' con noi! Ora non posso, devo finire di preparare la cena cominciate a giocare tra voi e non appena avrò finito in cucina vi raggiungerò Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! È andata via la luce! Ho battuto le mani troppo forte! Cookie Budino, che cosa facciamo? Ho paura del buio! Perché non c'è niente di cui aver paura! Mentre giocavamo a Mosca Ceca avevi gli occhi bendati ed è esattamente come stare al buio! Si sbagli, avere una benda sugli occhi non è come stare al buio! Ehi gattini, dove siete? Nannina! A quanto pare è andata via la corrente in tutta la casa ma non dovete preoccuparvi, dobbiamo solo scendere in cantina a cercare le torce! Ma lì sotto è ancora più buio! Non è meglio stare quassù ad aspettare che ritorni la luce! E se ci mette molto tempo a tornare? Non dovete avere paura di scendere in cantina staremo sempre tutti insieme! Allora va bene! Fate attenzione mentre scendete le scale! Oh cielo, Chicca, ma che ti succede? Ho tanta paura, nonnina! Lì sotto è molto, molto più buio! A me il buio non fa paura nemmeno un po' e lo sai perché? Perché il buio è nostro amico! Ci sono tante cose bellissime che senza il buio non potremmo vedere! Come la luce tenue e tremolante di questa candela e le stelle che brillano! Queste cose meravigliose si possono vedere solo quando è buio! Non vedo stelle nel cielo! Che belle! Per non parlare di quanti giochi divertenti potete fare al buio soprattutto se riuscite a mettere le zappe su una torcia! Chicca, sta a vedere che cosa faccio! Questa è una papera! Qua, 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 qua! E questa è una montagna! Guardate la cookie mobile! E questa qui è una farfalla! Oh mamma! Mi è venuta una fame da lupi! Sì, anch'io ho tanta fame! Oh, cipicchia! Purtroppo con questo trambusto non ho finito di preparare la cena! Proviamo a vedere se c'è qualcosa qui in cantina qualcosa che non debba essere cucinato! Io ho già trovato una cosa deliziosa! Dei biscotti! Io ho scovato un bel cestino di mele! Io invece delle karate! Gazzini, la cena è servita! E a quanto sembra è tornata anche la luce! Che peccato! Ci stavamo divertendo così tanto a stare al buio! E non mi faceva per niente paura! Un momento, mi è venuta un'idea grandiosa! Così possiamo di nuovo giocare al buio finché vogliamo! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Oh, cipicchia! Cos'è successo qui dentro? Eh, forse è andata via la corrente? È andata via! Ma poi è tornata! Però abbiamo spento la luce! Stare al buio è divertente! Dici davvero? Allora non hai più paura del buio! È meraviglioso! Brava, piccola mia! Venite tutti qui a guardare il nostro spettacolo di ombre cinesi! E fu così che Kikka scoprì che non c'è alcun motivo di avere paura del buio! E che giocare nell'oscurità può essere molto divertente! In visita da molto lontano Oggi il papà ha ricevuto la visita di un vecchio amico che abita molto lontano Ciao, Neko-san, amico mio! Benvenuto nella nostra felice dimora! Benvenuto, Neko-san! E lei deve essere tua figlia? Sì, lei è Mochi! Oh, questi sono i vostri figli! Ciao, gattini! Lei è Mochi! Ciao, io sono Cookie! Piacere, Kikka! E io sono Budino! Gattini, dovete sapere che nel paese dei nostri ospiti ci si inchina per presentarsi! Posso prendere i vostri cappotti? Gattini, mentre io e vostro padre faremo il mio dolce speciale, voi potreste giocare con Mochi? Ha portato dei regali per voi! Fantastico! Mi-wow, 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 mi-wow! Questi sono degli abiti tradizionali come quelli che indossiamo noi! Qualcosa mi dice che non riuscirò a giocare a calcio con quei vestiti addosso! Mochi mostra ai gattini una danza tradizionale con i ventagli che ha portato per Kikka! Perché dovrei volere due ventagli identici? I gattini ricevono anche un libro sull'arte di piegare la carta! Origami! Non ne ho mai sentito parlare! E adesso giochiamo? I-ha! Wow! Oh! Oh! I gattini provano a fare tutto quello che Mochi vuole insegnare loro, ma le cose non vanno molto bene! Ehm... Forse le tradizioni dei paesi lontani non fanno per noi! Per pranzo tutti si siedono attorno al tavolo come fanno Neko-san e Mochi a casa loro e si preparano a mangiare il cibo del loro paese! Questi sono i nostri pomodorini sott'aceto! Ma nel loro paese non ci sono le sedie! Mi sa che non hanno nemmeno le forchette! Oh! Non ci riesco! Come si fa a mangiare con le bacchette? Noi non siamo proprio capaci! È vero! È impossibile riuscirci! Papà! Sei davvero forte con le bacchette! Potete farcela anche voi! Tenete le bacchette così! Poi prendete il cibo! È stata Neko-san da insegnarmi il segreto per usare le bacchette! Fidatevi! Senza di lui non avrei mai imparato! Ero insicuro! Proprio come voi! Ma adesso le usi proprio come faccio io, papà-san! Evviva! Ora so come usare le bacchette! È fantastico! Mi è venuta un'ottima idea! Anche noi dovremmo provare a imparare qualcosa di nuovo! Ma ci puoi insegnarci tu! Ed ecco un'altra cosa che proviene dal nostro paese! La mia specialità! Il gelato nero! Ho insegnato a vostro padre i trucchi per farlo! Gelato nero? Cos'è successo? Si è bruciato! No! È fatto col sesamo nero! Per questo è così scuro! Forza! Assaggiatelo! Ci piacerebbe vivere nel vostro paese per un po'! Sarete i benvenuti ogni volta che vorrete venire! Siamo felici di ricevere ospiti che vivono lontano! E comunque il gelato si può mangiare con il cucchiaio, gattini! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Oh! Questo è il vostro ballo tradizionale! Sì! Gli altri paesi sono davvero fantastici! Ai dolci gattini è piaciuto molto conoscere alcune tradizioni del paese della loro nuova amica Mochi! I dottori! Un giorno mamma e papà fecero a Cookie, Kik e Budino, un bel regalo con cui giocare a fare finta! Piccoli, guardate cosa abbiamo per voi! Che viva! C'è il termometro! Anche delle lunghe vende! E un bel cappello! E tutto il necessario per avviare il vostro studio medico e giocare al dottore! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Io faccio la dottoressa! No! Voglio farlo io il dottore! Anch'io! Sì, ma se tutti e tre facciamo i dottori, dove li andiamo a prendere i pazienti? I nostri amici potrebbero fare i pazienti! Mi ciao! Noi giochiamo al dottore! Qualcuno di voi si sente male? Sì! Sì! Io sto molto male! Facciamo visite a domicilio, prendiamo alcune medicine e arriviamo da voi! La marmellata! La prima paziente dei dolci gattini era Tortina! Buongiorno, signora! Che cosa si sente? Ho qualcosa che non va alla coda! Secondo me non è abbastanza bella! Bene, stia tranquilla! Posso tagliarle la vecchia coda e cucire al suo posto una bellissima coda di pavone! Semplice! Non mi serve un'altra coda! Voglio un secondo parere medico! Allora, non sento proprio niente! Posso colpirla col martelletto? Mettilo giù! Dovremmo solo avvolgere la coda con alcune bende! Va bene, basta che siano carine! Tante grazie, dottori! Spero che si senta meglio, signora! Ti tenga a mente che una mela al giorno... Toglie il medico di torno! Visto che Tortina stava meglio, i dottori andarono a visitare Razzo! C'era tanto vento e non fu una passeggiata molto piacevole! Ehi! Buongiorno, signore! Che cosa si sente? Dottori, mi sa tanto che mi sto trasformando in un alieno! Parlo anche come un extraterrestre! A quanto pare lei ha la febbre aliena! Ma noi abbiamo il rimedio perfetto! Prenda questa marmellata di frutti del cosmo! Cura tutte le malattie aliene! Oh no, a quanto pare me la sono mangiata tutta io! Non fa niente! Le possiamo fare un'iniezione di marmellata! E presto si sentirà di nuovo come un terrestre! A meno che non si trasformi in un cocomero o in un annaffiatoio! No, non voglio fare l'iniezione! Calmi, signore! Visto che è un bravo paziente, le do un lecca-lecca alla frutta! E mi raccomando, stia a riposo! Mi sento già molto meglio! Anche Razzo stava meglio! I nostri piccoli dottori pelosi dovevano ancora curare Boris! Così corsero sotto la pioggia dal loro paziente! A-Ciu! Come si senti, signore? Beh, il problema è che mi sento molto molto triste quando fuori piove e il cielo è tutto grigio! Magari basterà solo arricciarle i baffi! No, no! Lascia stare i miei baffi! In realtà mi fa male la pancia! Oh, ma certo! A-Ciu! Che strano! A-Ciu! Sì, sembra che lei abbia ingoiato un'elica! Anzi, credo sia qualcosa di più grande! È la tua pancia, Brontola, per tutta la marmellata che ti sei mangiato! Sì, hai ragione! La mia pancia che borbotta! La sua pancia sarà come nuova dopo un po' di tè e dei biscotti! E legca anche questo libro sul clown! La tirerà su! Oh, i pagliacci li ho sempre trovati grandiosi! Adoro i loro nasi rossi! Oh, caspita! Anche i vostri nasi sono molto rossi! Oh! Mammina! Abbiamo curato i nostri patieci! Siete bagnati i fradici! Avanti! Toglietevi dalla testa questi cappelli zuppi e filate dritti al letto! Vi ho portato una tazza di tè caldo al limone! Bevetela! Così domani starete meglio! Dopo una bella notte di sonno, i gattini stavano benone! Buongiorno! Qualcuno ha chiamato il dottore? Io vi ho portato le arance per cominciare bene la giornata! E io ho portato le miglie! Così potremo giocare tutti insieme! E io ho portato uno scherzetto per tirarvi su! Uno studio medico non sarebbe completo! Senza un'ambulanza scattante! Oh, sono un'ambulanza! Ditemi come fa la sirena dell'ambulanza! Va così! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Ai gattini piacque giocare al dottore, ma si divertirono di più a bruciare chili di sana energia giocando con gli amici! La confettura di lamponi Papà portava sempre delle leccornie dalla fabbrica di dolciumi Quel giorno ci fu una novità! Alla fabbrica di dolciumi stiamo preparando una nuova torta con una speciale farcitura al cioccolato! Fantastico! Sembra davvero deliziosa! Perché non la assaggiamo subito? Insieme a una bella tazza di buon tè! La mamma portò la torta in cucina per preparare il tè! Mammina! Vorremmo aiutarti a fare qualcosa! Per favore, possiamo aiutarti? Ma certamente! Sapete che cosa potreste fare? Prendete la confettura di lamponi! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Le confetture sono su una mensola giù in cantina! Giù in cantina! La mamma teneva tutte le conserve e le confetture in cantina! Cosa stiamo aspettando? Scendiamo! Va bene! Caspita! Qui ci sono un sacco di cose interessanti! Vediamo! Che cosa abbiamo qui? Acetoso! Molto acetoso! È troppo salato! Ma chissà cos'era! La lingua mi va a fuoco! Brucia, brucia, brucia! Non assaggerò nient'altro da questi vasetti! Non dobbiamo assaggiare, ma trovare la confettura! Giusto! La mamma ci ha mandati qui a prendere la confettura di lamponi! Lo so, ma come facciamo a trovarla? I vasi hanno le etichette! Basta trovare quella con su i lamponi! Qui ci sono le ciliegie! Sto sciando in cantina! Al galoppo valigia! Qui ci sono le carote! Ehi, laggiù! Cosa c'è qui dentro? Mi sembra dei cavolfiori! E in questo vasetto ci sono... Non sono lamponi, ma delle cose molto piccanti! Ci credo che sono piccanti! Sull'etichetta c'è un peperoncino! Ehi, guardate! Li ho trovati! Sì, quello è un lampone! Evviva! Missione compita! È un'etichetta senza vasetto! Allora non ci resta che trovarne uno in cui manca l'etichetta! Giusto? No! 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 Sì! Che vaso grande! C'è tanta confettura lì dentro! Ora dobbiamo trovare un modo per portarlo su in cucina! Ma il vaso si rivelò molto pesante! Potremmo metterlo sull'alto e farlo rotolare! Ditemi che non si è rotto! È intero! Adesso dobbiamo farlo salire sulle scale! Sarà dura! Urrà! Siamo degli aiutanti perfetti! Ci siamo qua! Bene! Ora dobbiamo iniziare da capo! Magari possiamo mangiare la confettura proprio qui! E poi salirebbero il tè! Già, ma se facessimo come dici tu, mamma e papà resterebbero senza confettura! Allora portiamo qui sotto il tavolo, così faremo merenda in cantina tutti insieme! È un piano perfetto! Basta, non riesco più ad aspettare! Voglio mangiare la torta! Il tavolo risultò essere troppo grande! Ci servirebbe una porticina più grande! Non riusciremo a mangiare la torta insieme alla confettura e al tè! Mi è appena venuta un'idea grandiosa! Rimettiamo il tavolo in sala, versiamo un po' di confettura qui dentro e portiamola su! Cookie, chicca, budino, tesori miei, che dolci! Avete trovato la confettura giù in cantina e avete pensato di portarla di sopra in quella coppa! Già, quella magnifica coppa di confettura farà una gran bella figura sulla tavola vicino alla nuova torta! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! L'avventura in cantina aveva messo appetito ai dolci gattini! La confettura di lamponi e la speciale torta al cioccolato erano quello che ci voleva! Mi è venuta un'idea meravigliosa! Quando la mamma mi canta le ninna-nanne io riposo meglio! Perché non gliene cantiamo una? Non disturbiamo papà, niente fusa, niente miau, che se si riposerà, poi con noi lui giocherà! Ciao, piccoli! Vedo che non vi siate annoiati per niente a giocare con il vostro papà! Sveglia, dormiglioni, è tornata la mamma! Sono sveglio al cento per cento! Riposate brillante! Ehi, alzatevi, gattini! Oh, non possiamo dormire un altro pochino! La nonna e i gattini si divertirono un mondo a raccogliere frutta e verdura e a lavarle con l'acqua pulita! È il momento di assaggiare tutto quello che abbiamo raccolto! Che idea grandiosa! Ci farebbe bene fare una pausa dal gioco! Ah, quanto mi piacciono le fragole! È tutto merito vostro! Grazie di aver lavorato tanto siete stati bravi! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Però, dovete aver giocato davvero tutto il giorno per essere così stanchi! Eh sì, stasera non ci sarà bisogno di leggervi la favola della buonanotte! Riportali quando vuoi e magari resta anche tu! Ci sono dei giochi che potremmo fare insieme! Ah sì, come quando mi hai insegnato a giocare a dipingi il fienile e come era l'altro taglia la legna! Ho un'idea grandiosa per un nuovo gioco! Chi si addormenta per primo vincerò io! I dolci gattini raccolsero frutti deliziosi e trascorsero con la nonna una giornata stupenda! Mi è venuta una bella idea! Perché non passiamo il tempo ad incartare i regali per tutti i nostri amici? Così saremo obbligati a restare svegli! Incartare i regali di buon augurio per l'anno nuovo è una cosa molto divertente! Ma può essere anche molto stancante! Ecca, Cookie, Budino! È quasi arrivata la mezzanotte! Ma guarda, tesoro! Guarda quanti preziosi regali per l'anno nuovo! Lasciamoli dormire tranquilli e beati! Ma è un vero peccato! Cosa possiamo farci? Proveremo a festeggiare con i gattini l'anno prossimo! Non riesco a capire perché non possiamo fare sogni sul richiesto! Ah, forse perché è semplicemente impossibile! I nostri sogni sono una misteriosa e affascinante sorpresa! È questo che li rende meravigliosi! E per fare sogni sempre intensi e interessanti, dobbiamo fare tante cose divertenti ogni giorno e raccogliere tantissime esperienze diverse! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! I gattini trovarono tante cose utili e interessanti da fare tutto il giorno e dopo aver raccolto tutte quelle esperienze, si addormentarono subito e tutti e tre fecero sogni sulle esperienze uniche e affascinanti che avevano vissuto durante la giornata Un momento! Tu devi rimanere ancora un pochino, papà! Hai un dente che ha bisogno di cure! Per caso mangi molti dolci? Beh, io devo per il lavoro che faccio alla fabbrica di dolciumi Tutti devono prendersi cura dei denti Attenzione ai dolci e spazzolino e filo interdentale due volte al giorno Così i denti resteranno belli, sani e forti Ma tesori miei, è importante fare un bel riposino dopo pranzo Mentre dormite potrebbe venirvi una bella idea Pensate che una volta un rinomato scienziato sognò un'invenzione meravigliosa proprio mentre dormiva E quell'invenzione diventò una grande scoperta scientifica Un famoso artista si svegliò da un bel riposino E si misi a dipingere tutte le cose straordinarie che aveva sognato Creando un capolavoro Oh, vorrei che succedesse anche a me Allora andiamo tutti a fare un bel pisolino Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Un giorno la mamma e il papà svegliarono i gattini molto presto È ora di svegliarsi, dolci gattini Andremo a fare campeggio in una riserva naturale e stanotte dormiremo in tenda Faremo campeggio, sul serio! E dormiremo in una vera tenda E potremmo anche accendere un fuoco da campo Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Nella riserva c'erano posti adibiti al campeggio Su, gattini, è ora di andare a dormire Buonanotte, mamma! Buonanotte, tesori Buonanotte, gattini! Spostatevi un po' Qui dentro ci sono le zanzare E sono animali famelici Sono anche belle grandi Per fortuna ho portato lo spray contro gli spaventosi animali salvatici Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Sistemata la tenda, i gattini si misero ad aiutare i genitori E si divertirono un mondo a fare campeggio nel bosco I gattini stavano passando il weekend dalla nonna Sveglia, sveglia, miei dolci gattini Inizia una nuova giornata No, vogliamo stare a letto ancora un pochino Già, io non ho proprio la forza di alzarmi dal letto Su, gattini, facciamo qualche esercizio mattutino Con un po' di ginnastica vi sentirete subito pieni di energie Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro La ginnastica fa bene La ginnastica serve soltanto alle nonne e ai nonni Noi siamo ancora dei gattini Il movimento fa bene ai gatti di tutta l'età Fare stretching vi renderà più forti Io sono già forte così Guarda come sollevo i pesi Sì, lo vedo, sei un vero atleta Se non volete fare ginnastica va bene Ma dovete assolutamente mangiare il porridge per colazione Vi darà le energie per tutta la giornata Quindi per essere forti basta mangiare il porridge? Già, e non serve neanche fare la ginnastica mattutina Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow No, la scarpetta è alla fine Come prepariamo questa recita se nessuno di voi conosce le battute? Sei sempre in ritardo per le prove Ci fai aspettare ogni volta Così per provare non c'è mai tempo Sì, hai ragione, Budino Non riesco a capire come fare per svegliarmi in orario Potresti restare in piedi tutta la notte Sì, ma poi finirebbe per addormentarsi proprio sul palco Forse dovresti comprarti una sveglia bella grande Anzi, una sveglia gigantesca E dove la troverebbe una sveglia così grande? Mi è venuta una bellissima idea Tortina dovrebbe mettere la sveglia lontano dal letto Così per spegnerla sarebbe costretta ad alzarsi Dopo aver spento la sveglia che sta sull'armadio Non si riaddormenterebbe di sicuro È un'ottima idea ed è quello che farà Le sculture di neve Un giorno, Pittorgatto organizzò un concorso Per la migliore scultura di neve E il vincitore del concorso riceverà un'intera scatola Di deliziose biscotti Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Guardate la videocamera, sorridete e dite topi Topi! Laggiù ci sono le vostre pale Ora, immaginate che la neve si argilla Trovate l'ispirazione e scolpite la neve Cominciate! Io farò un grosso gatto di neve Io farò un gatto di neve ancora più grosso Io di più! Anche Boris decise di fare un gatto di neve E così Leo e Tortina Di solito le braccia si fanno con dei rametti Il naso si può fare con una bella pigna In questo modo Una sera si mise a nevicare così forte Che i gattini dovettero restare in casa Mi annoio tanto Dobbiamo trovare qualcosa da fare Sì, ma che cosa? Ehi, guardate! I fiocchi di neve sembrano stelle cadenti Immaginiamo di fluttuare nello spazio Incredibile! Statemi a sentire Ci imbarcheremo in un'avventura cosmica Io ci sto! Voleremo in mezzo alle stelle! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Nello spazio non c'è gravità Quindi dovremo fluttuare Ottima idea! Proviamoci! Fluttuare è faticoso Sono sfiancato a furia di combattere la forza di gravità Allora perché non costruiamo un'astronave per volare in casa? Cookie, Kick e Budino Furono felicissimi di scoprire che finalmente la neve si era sciolta Oh, la lunga attesa è finita! Già, finalmente è qui! Mi riferite al sole? No, io parlavo della nuova altalena! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La provo io per primo! Stai attento, Cookie! La nuova altalena era nel bel mezzo di una pozza di fango appiccicoso e rivoltante Ci sporcheremmo di fango se cercassimo di arrivare all'altalena Se papà fosse qui non avremmo problemi Ci prenderebbe tutti in braccio e ci porterebbe laggiù Ma Budino, papà non può aiutarci Ora è al lavoro Pronto? Sì, esatto, sto lavorando in fabbrica Poi uscirono tutti insieme a divertirsi in famiglia E nessuno si preoccupò di sporcarsi un pochino Un mattino, mentre nevicava I dolci gattini non vedevano l'ora di uscire a giocare sugli slittini e sullo scivolo Oh, buongiorno dolci gattini! Dove andate di bello a quest'ora? Fuori a giocare sullo scivolo! Avendo nevicato tutta la notte però Lo scivolo era completamente ricoperto di neve Ragazzi, che fine ha fatto lo scivolo? È qui sotto, tanto vale usare la montagnetta che si è creata Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Inizia lo spazio! Ma gli slittini affondarono nella neve fresca Così è molto più difficile che sullo scivolo Da qui sotto riesco anche a vederlo Coraggio, liberiamolo dalla neve, sarà facile! I dolci gattini scoprirono che lo snowboard era perfetto per andare sulla neve fresca Sì! I dolci gattini osservavano dalla finestra la poca neve rimasta La neve si è quasi sciolta e si avvicinano le feste Ma Babbo Natale verrà lo stesso anche se non c'è più la neve? La fatina del gelo rimedierà il problema Babbo Natale e le fatine del gelo hanno molto lavoro da fare prima delle feste Perché non li invitiamo a casa nostra? Così potranno riposarsi, penseranno dopo alla neve e ai regali Che bello! Invitiamo Babbo Natale e la fatina del gelo Oh bravi, è molto carino da parte vostra Io e il papà saremo felicissimi di invitarli Giusto, certo! Sapete che vi dico? Gattini, volevo dirvi che mamma Natale Insieme al delizioso fatino del gelo Hanno messo in questo sacco dei regali tutti per voi Il papà e la mamma avevano portato dei regali per i dolci gattini Che li aprirono gioiosi ed emozionati Mentre fuori la neve dipingeva un meraviglioso paesaggio da sogno Capodanno! Era la vigilia di Capodanno e l'intera famiglia si preparava a festeggiare Gattini miei, stasera non dovrete andare a letto alle nove Potrete restare in piedi fino a mezzanotte e salutare l'anno nuovo! Per la prima volta nella vostra vita festeggerete l'anno nuovo come fanno i grandi! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Il primo Capodanno da grandi dei dolci gattini fu molto divertente Con i fuochi d'artificio, i regali e gli amici E a nessuno venne voglia di dormire Un giorno i gattini decisero di giocare ad Hockey Bene, decidiamo i ruoli Leo farà il portiere, io farò l'attaccante Io farò il difensore! E mi sa che io sarò solo d'impiccio Tesoro, perché dici così? Non sono per niente bravo negli sport di squadra Ricordi quando abbiamo giocato a calcio? Sono sicura che stavolta Budino giocherà benissimo E sapete una cosa? Verrò al campo con voi e farò il tipo come una vera cheerleader Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Budino, sei bravissimo! Sì, vai così! Viva! Budino, tu sei un portiere eccezionale! Con te in porta formiamo la squadra più forte di sempre! Avete ragione, sono proprio bravo nel ruolo di portiere! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Un giorno d'inverno il papà ha deciso di portare i gattini sulle piste innevate per farli divertire sulle discese So già che ci divertiremo tantissimo a giocare sulla neve con papà! Io adoro la neve, possiamo fare tutto quello che vogliamo! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Gattini, solo due cose! Datemi sempre ascolto e ricordate che dobbiamo essere a casa per pranzo! C'erano così tante piste che non sapevano quale scegliere! Io voglio andare su quella pista laggiù! Invece io voglio andare su quella! No, andiamo su quella là in alto! Sentite, gattini, possiamo restare solo qualche ora! Allora dobbiamo sbrigarci! Wow! Ovviamente il tempo vola quando ci si diverte In piedi, gattini, non si dorme sulla neve! Un giorno il papà e i dolci gattini costruirono una casetta per gli uccelli Questa sì che è una bella casetta per uccelli! Devo trovare un albero a cui fissarla! Lo sai? Sei fortunato tu! Da piccolo ho sempre sognato di vivere in una casetta su un albero Non piacerebbe anche a voi! Non sarebbe stupendo avere un posticino speciale tutto vostro Per vedere ogni cosa dall'alto? È bellissima! Avere una casetta sull'albero era meraviglioso Ma giocarci con tanti amici che ridevano contenti era anche meglio Un giorno la mamma e il papà portarono i gattini a trovare la nonna in campagna Benvenuti, miei piccoli tesori! Giocherai tutto il giorno con noi come l'ultima volta? Sì, sì, evviva! Ciao, ciao, gattini! Ciao, ciao! Giochiamo! Sì, certo, avremo modo di giocare Ma prima devo dedicare un po' di tempo a raccogliere i frutti che crescono nel mio giardino Guardate quante cose ho piantato! Mele, carote, fragole, fiori E tutti quanti hanno bisogno di molte cure Mi è venuta una bella idea! Aiutiamo la nonna in giardino Così finirà presto tutte le faccende e avrà più tempo per giocare con noi Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Ah, quanto mi piacciono le fragole! È tutto merito vostro Grazie di aver lavorato tanto Siete stati bravi! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! La bicicletta! Era un gran giorno Mamma e papà stavano regalando a Kikka la sua prima bicicletta da grande Sorpresa! Urrà! Ora potrà partecipare alla corsa di biciclette con voi grandi! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Oh no! Mi sono ricordata che io non so andare sulla bici da grande! Imparerai ad andare senza rotelle in un baleno se i tuoi fratelli te lo insegnano! Certo! È piuttosto facile! Già! Tutta orgogliosa, Kikka mostrò agli amici la sua nuova bicicletta! Ehi, Kikka! Sulla bici nuova sembri una gattina grande! È davvero una bici bellissima! Quando facciamo una corsa tutti insieme? Prima dobbiamo insegnare a Kikka ad andare sulla bici nuova! È facile, Kikka! Guarda! Cookie andava così veloce che la povera Kikka riusciva malapena a capire cosa stesse facendo! Hai capito tutto? No! Beh, fai comunque un tentativo! Oh! Così non va bene per niente! Accipicchiolina! Stiamo volando proprio in alto, vero? Le nuvole sembrano dei morbidi batuffoli di ovatta! Oh! Ma però! Volare non fa per niente paura! Anzi, direi che è fantastico! Tra pochi minuti serviremo qualcosa da bere e da sgranocchiare e nel frattempo volete qualche fumetto o qualche rivista da leggere? Chi l'avrebbe detto? Non riesco a credere di aver avuto paura di volare perché è... Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Oh, dimmi, allora ci siamo alzati in volo? Sì, tesoro, siamo molto in alto! Signore, vuole qualcosa da leggere? Andrà tutto bene, ma tu non lasciarmi la zappa, ok? I dolci gattini finirono per divertirsi un mondo a viaggiare in aereo e al coraggioso Budino passò per sempre la paura di volare Cookie entrò nella cabina a vedere come il nonno guidava la barca La cosa più importante è tenere ben stretto il timone così la barca mantiene la direzione Ora prova tu! Ah, è straordinario! Guarda, nonno, sto pilotando la barca! È importante tenere stretto il timone così la barca mantiene la rotta! Improvvisamente cambiò il vento e la barca iniziò ad oscillare No, ho mancato ancora! Cookie! Devi tenere forte il timone! Hai capito? Sì, sta tranquillo! Poco dopo il vento si calmò e la barca smise di oscillare Il picnic! Era una bella giornata Così mamma e papà decisero di portare Cookie, Kik e Budino a fare un picnic I gattini presero tutte le cose che potevano servire Io farò tantissimi costelli di sabbia! Io mi metterò tranquillo a leggere tutti questi libri Io invece non mi fermerò un attimo! Ehi, guardate! Quante cosette buone da mangiare! Un picnic non è tale senza una cesta piena di cose buone Ma siamo proprio sicuri di non aver dimenticato niente? Hai tutto, Cookie? E tu, Kik? Tu, Budino? Allora si parte per il picnic! Nel boschetto si va Quanta felicità Ma voi ditemi chi non ha l'ora i picnic! Un giorno la mamma e il papà portarono i dolci gattini e i loro amici al parco per fare un giro sul treno a vapore dei piccoli Io farò il macchinista! Budino, tu metterai il carbone Kikka, tu farai il controllore e gli altri faranno i passeggeri! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Fate buon viaggio, gattini! Io e papà vi aspetteremo qui! Magari abbiamo il tempo di comprare un bel sacchetto di popcorn Metti dentro più carbone così andremo più veloci! All'inizio Budino si divertiva a caricare il carbone finto nel forno della locomotiva immaginando che fosse tutto vero Posso vedere i biglietti per favore? Un giorno i dolci gattini ricevettero in dono un bellissimo camion dei pompieri con tanto di caschi Guarda papà! Quello è uguale al camion dei pompieri che guidi tu quando sei al lavoro! Il papà di Leo fa il vigile del fuoco e guida un vero camion dei pompieri Deve essere fantastico guidare il camion dei pompieri con la sirena accesa mentre tutti accostano per farti passare È bello indossare i caschi scintillanti e trascorrere la giornata ad aiutare tutti come un eroe Se volete uno di questi giorni posso organizzare per voi una visita alla stazione dei pompieri Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Tanto tempo fa alcune tribù di uomini primitivi vivevano proprio qui Guardate! In questa terra sono sepolte cose interessanti che risalgono al passato Lei ci lavora da solo su questo sito? Purtroppo sì Non ci sono molti gatti che vogliono fare gli archeologi I gatti di oggi non hanno pazienza e preferiscono solo guardare la tv Mi dispiace per quel povero archeologo Non credete che dovremmo andare ad aiutarlo a cercare cose antiche? Sì, sarà un po' come cercare un tesoro perduto Ci divertiremo un sacco Questa non me la perdo Potrei trovare qualcosa di prezioso Allora siamo d'accordo Andiamo a scavare come dei veri archeologi! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Beh, buona fortuna, tesoro mio Sembra che questo weekend ti aspetti un programma divertente Il mattino dopo il papà diede ai gattini dei cappelli speciali e li accompagnò al sito archeologico Un giorno i gattini portarono le macchinine telecomandate al parco La macchina numero uno schizza in testa al gruppo aggirando tutti gli ostacoli Sapete una cosa? Dovremmo costruirci una pista tutta per noi qui al parco Così potremo fare una corsa Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow Però anch'io voglio partecipare alla corsa Almeno sai come si guidano queste macchinine? No, ma vorrei imparare Mi fai fare una prova? Dai, facciamola provare Questo comando fa avanzare la macchinina e questo pulsante la fa andare indietro Per farla sterzare devi girare questa rotellina Ah, sembra abbastanza facile Non da quella parte Ferma! Fammi provare la retromarcia Ok, inizio a prenderci la mano Ma dove stai andando? Fai marcia indietro, sbrigati! Ci hai provato? Ma ora basta, ridammi i comandi Lo sanno tutti che le femmine non sono brave a guidare Già, non sono abbastanza veloci Però le femmine sono bravissime a spingere i passeggini Ed è già qualcosa! Un giorno i gattini videro la pubblicità di un gatto che andava su un monopattino favoloso Mamma, che numeri! Guardate quanto è forte quel monopattino Anch'io ne voglio uno così Il monopattino per campioni è superlativo e potrà fare di te un vero asso delle due ruote Fantastico! Papà, mi serve il monopattino della pubblicità Ho dei soldini da parte e vorrei usarli per comprarlo Ne sei proprio sicuro? Non va bene un comune monopattino? No! Un comune monopattino non si avvicina lontanamente a quello per campioni Ok, visto che lo paghi in gran parte con i tuoi risparmi puoi avere il monopattino che vuoi Fantastico! Questa pioggia non ci fermerà Siamo avventurieri coraggiosi in missione su una mongolfiera Ora usate l'immaginazione Andate, andate, andate! L'immaginazione ti porta dove vuoi Tanti posti magici visitare puoi Su una mongolfiera puoi volare via Basta solo un po' di fantasia Immagina, immagina E tutto il mondo ai piedi avrai Il viaggio non finisce mai Immagina, immagina E tutto il mondo ai piedi avrai E tutto il mondo ai piedi avrai